Le prime impressioni sono state buone, io sono contento di essere arrivato, ho trovato un ambiente positivo, molto familiare e comunque un gruppo di ragazzi che ha voglia di fare un gran girone di torno, quindi io mi aggiungo a loro, mi accodo e c'è tanta voglia di lavorare per migliorare la nostra classifica. Mi stimoli di rimettermi in gioco, purtroppo arrivo da sei mesi iniziati benissimo e poi disastrosi calcisticamente parlando e a 33 anni non mi sento assolutamente alla fine, anzi ho voglia di giocare e sono venuto qui per rimettermi in gioco, di aiutare la squadra, cercare di dare una mano e credo che l'obiettivo comune sia chiaro. Sono passato da giocare sempre a non giocare più, purtroppo sono scelte che non saprei rispondere, sono scelte tecniche e societarie, questo non lo posso sapere e onestamente non mi interessa neanche più. Ho accettato con entusiasmo questa chiamata e ho voglia di dare il mio contributo perché comunque la squadra vuole salvarsi, sa che comunque non è una cosa facile ma non è impossibile. Con il lavoro possiamo arrivarci solo stando tutti insieme uniti e crederci che questo credo sia fondamentale. Io fisicamente bene, ovviamente l'ultima partita giocata è stata, a parte la Coppa Italia che abbiamo giocato con il Pisa, è stata qui a Pescara, quindi mi sono sempre allenato, non ho avuto problemi di nessun tipo. Ovviamente la partita è l'allenamento migliore, però a livello fisico sto bene. C'è da lavorare perché c'è da lavorare in tutti i reparti e in tutte le fasi secondo me, sia in una fase difensiva che in una fase offensiva. Bisogna capire quello che non è andato nel giro dell'andata e cercare di cambiarlo.